Nonostante la stagione partita in ritardo e la funivia a carico ridotto al 70% dei passeggeri, la montagna aquilana con la stazione turistica di Campo Imperatore guadagna presenze ogni giorno. Lo scorso fine settimana sono stati registrati circa 2000 passaggi funivia. Un dato parziale, sottolinea il presidente del centro turistico del Gran Sasso, Dino Pignatelli, che però indica una tendenza soddisfacente delle presenze nel comprensorio montano. Ancora non chiudiamo i conti, però diciamo che abbiamo sicuramente le presenze soddisfacenti da poter ritenere una stagione positiva. Sono tanti gli aquilani che affollano le piste o che raggiungono la stazione solo per passare una piacevole giornata all'aperto. Arrivano a Campo Imperatore anche dal territorio terramano, essendo chiusa la storica stazione di Prati di Tivo. Tornano anche gli abitanti della capitale e i turisti provenienti dalle marche e a grande sorpresa arrivano sul Gran Sasso anche dalla Puglia. Sto notando una presenza abbastanza insolita di presenze pugliesi. Diciamo che molta gente ha conosciuto la montagna del Gran Sasso in estate. E' stato intanto annunciato il bando per la ristrutturazione dell'albergo di Campo Imperatore. La struttura ormai fatiscente rappresenta il valore aggiunto per la gestione turistica di una stazione dalle grandi potenzialità, ma ancora troppo poco sfruttate. Io penso che dentro adesso a breve dovrebbe essere pronto il bando e secondo da programma i lavori dovrebbero iniziare appena inizia l'estate, appena si può lavorare perché lassù c'è il problema della strada chiusa con la neve.